voglio proprio vedere voglio proprio vedere dai fa un culo dove cazzo vai quello è non è possibile cominciamo proprio con il botto non sto andando bene per niente mi sa che la macchina nuova è un problema andiamo a cambiarla va vendiamo la nuova auto per 29 mila si aspetta quanto costava la ferrara andiamo ora a provare questa challenge qua